Ragazzi, siamo quasi giunti, guardate che ha fatto l'incendio a luglio, a fine di luglio. Ecco, siamo quasi arrivati, già si vede la croce giù in fondo. E poi, questa è la croce più grande, ma non è che stava dal punto più alto. Sì, guarda, quindi l'hanno messa qua perché da sotto si vede meglio. Il punto più alto, siamo più a sinistra, c'è una ruggita piccola. Questa è la croce della serra. Vedete, è tutto uno scrimone, ed è l'incendio pure da quest'altra parte. Ecco la croce giusta là sopra per la pontegnola. Ecco l'incendio.